c'è una bella vittoria in trasferenza in coppa italia contro l'inter in un debito italia ovviamente chi non lo sapesse l'inter la juventus sono nella verità che si odiano della morte mamma mia infatti come ho detto le partite inter juve come ho detto prima si odiano fidate di me io so queste cose c'è sei informato mamma mia o bellissima bellissima vittoria in coppa italia contro l'inter in semifinale andata ma adesso testa al campionato ci sono quarti in classifica c'è c'è non c'è non vorrei dire una prestazione ma anche quello contro la roma sembra una bella prestazione non vorrei dire allora perchè io non amo la serie dovrei continuare o no tranquilli tranquilli la serie continuerà continuerà lo stesso tranquilli vedete quando finiamo con la serie la vedrete mamma mia faccio tutti i conteniti faccio state a vedere a questo io voglio ringraziare time di 21 mesi scritto al canale e infatti lui si meritava un'iscrizione e io l'ho fatto mi sono iscritto al suo canale apposto quindi tutte le due possiamo tenere ci soddisfatti sapete beh anche la roma è una bella squadra mamma mia 0 0 napoli atalanta mamma mia se vince il napoli se va in fennato l'atalanta a me non importa io spero che vado in finale alla juventus speriamo speriamo di sì se vuoi dire una cosa in questo video sfogo devo dire una cosa la juventus la juventus in questi anni non è cambiata al libro tattico e non è la stessa tattica ma insomma per primo non ho visto un po spenta prima trattamente cappa o 3 a 0 nella juventina ma per dire a me sono sconfitte che possono capitare c'è pensate che nel 2020 l'anno scorso adesso 9 1 con una 9 1 contro nella sferuna 3 1 con la roma e volete fin qui tutto contento beh un po un po no non sono contento in effetti ma veramente dobbiamo darci una svegliata perché dobbiamo vincere questo campionato perché sennò è finita il mio ci raggiunge gli scudetti allora tutto questo di termine qui spero che vi sia tantissimi piace iscritto al canale se ancora non l'è fatto è invito quindi più in termini del video invito a chi non è iscritto a iscriversi chi vuole lasciando mi piace è un bel commento qua sotto e direi salutarci buona giornata